Salve a tutti, sono Emilio Scalise di Babbel, Senior System Engineer. Mi occupo da tempo di MySQL, sia per quanto riguarda l'attività di training che i professional service, oltre ad occuparmi di infrastrutture e units in generale e prodotti middleware. Durante questa sessione vi presenterò alcuni interessanti casi di studio relativi alle problematiche più comuni che un DBA MySQL si trova da affrontare. Babbel è nata più di 15 anni fa da un piccolo team di sistemisti che lavorava a fianco di San Microsystem e ancora oggi è ora col Gold Partner. A fine 2013 siamo diventati la business unit di Partec SPA, specializzata nella software infrastructure system integration. Le nostre competenze includono l'erogazione di servizi professionali e la progettazione di soluzioni innovative sia su tematiche infrastrutturali, middleware ed applicative. Uno dei punti cardinei di Babbel è la filosofia open source. Infatti il nostro team collabora con le principali comunità open source, sia come contributore che come maintainer. In questa slide vedete le nostre principali partnership. Iniziamo ad affrontare la nostra prima problematica. Troppe connessioni al DB. Per troppe connessioni al DB intendiamo un alto numero di connessioni rispetto a quante può reggere il nostro server sia a livello hardware sia a livello di prodotto. Normalmente ogni connessione al DB in MySQL equivale a una socket, un connection thread e un certo numero di risorse allocate, dei buffer, dei file aperti e così via. Con un alto numero di connessioni viene allocata più memoria. Si ha un numero di cont switch elevato e quindi un minore throughput. In certi casi la memoria di sistema può non bastare e quindi si arriva ad utilizzare il file di swap del sistema e quindi le prestazioni decadono notevolmente. Questa è una problematica molto comune in ambienti di tipo lamp perché le prime librerie PHP non permettevano il pooling e anche quelle attuali non lo abilitano di default. Quali sono i parametri su cui intervenire? MaxConnection e OpenFileLimit. Attenzione che in MySQL non esiste un hard limit per l'utilizzo della memoria. L'utilizzo massimo della memoria si può calcolare con la formula che vi indico qui in basso. Buffer globali più numero dei client per i buffer delle singole connessioni. Vediamo qualche possibile soluzione a questo problema. La più facile da abilitare e la più comodamente utilizzata è la thread cache. Si abilita con il parametro thread cache size. I thread aperti da MySQL per gestire le varie connessioni vengono riutilizzati. Da MySQL 5.68 questa thread cache è abilitata di default. Un'altra soluzione è il pooling lato server. È abbastanza semplice da abilitare ma è presente solo sulla versione Enterprise di MySQL. Questa è fornita dal plugin Enterprise Thread Pool, dalla versione 5.5. Che cosa consiste il pooling lato server? Praticamente all'interno del server MySQL viene fatta una gestione più furba di questi thread. Una connessione non è più un thread ma vengono utilizzati al massimo tot numero di thread. Un'altra soluzione che è un po' più complicata da mettere in atto è il pooling lato client. Richiede il supporto da parte degli utilizzatori del nostro DB. Come funziona? Abbiamo un gruppo di connessioni LDB gestite. Queste connessioni vengono utilizzate per più di una transazione o query. Mantenute aperte e pronte all'utilizzo. Fate attenzione ai firewall che vi possono troncare queste connessioni aperte per tanto tempo, se non configurate correttamente. Un problema del pooling lato client è che devono essere implementate dalle librerie che utilizziamo, oppure dal nostro application server. In ambienti Java e .NET è molto comune l'utilizzo del pooling lato client. In questo grafico vi mostro come l'utilizzo dell'enterprise 3.pool riusciamo a fornire un throughput costante all'aumentare del numero di connessioni. Nella slide trovate il link al wallpaper da dove ho tratto questo grafico. Passiamo ad un altro caso. Il passaggio da tabelle di tipo MyISAM a tabelle di tipo InnoDB. Innanzitutto ci chiediamo perché migrare tabelle di tipo MyISAM. MyISAM è lo storage engine di default fino alla versione 5.1. Quindi molti dei clienti che utilizzano MySQL da tanto tempo lo utilizzano. È un motore non transazionale ed è principalmente stato studiato per soluzioni di web 1.0. MyISAM è poco performante in casi di utilizzo dove c'è molta concorrenza read-write. Se monitoriamo il server notiamo molti processi in stato locked. Questo perché i lock su MyISAM non sono granulari ma sono solamente a livello di tabella. InnoDB invece da accanto suo introduce lock a livello di riga e il multiversioning. Quindi transazioni differenti possono vedere versioni diverse degli stessi dati. InnoDB è molto più performante in carichi misti in lettura e scrittura. L'Io su disco è più ottimizzato su InnoDB. Abbiamo una gestione delle cache nativa. MyISAM invece si appoggia totalmente al sistema operativo per la gestione delle cache. Principali vantaggi di InnoDB. InnoDB è crash safe. Il recovery dopo un crash viene fatto in automatico e impiega un tempo costante. Su MyISAM questo recovery non è automatico. O almeno può essere abilitato ma può richiedere molto tempo rispetto a quanto sono grandi le tabelle. InnoDB permette di utilizzare transazioni e foreign key. Quindi ci aiuta nel mantenere la consistenza della nostra base di dati. InnoDB ci garantisce un'affidabilità di scrittura, la durability. Al commit i dati vengono scritti effettivamente sul disco. Esistono dei strumenti di backup a caldo per InnoDB. Mentre per MyISAM al massimo sono strumenti che bloccano le scritture al DB e fanno il backup. Quindi non è proprio a caldo. Cosiddetto backup di tipo warm. InnoDB fornisce anche un accesso alle dati di tipo NoSQL. Qual è il contro di InnoDB? Che ha un overhead maggiore per fornire tutte queste funzionalità aggiuntive. Viene usato circa il 30% di spazio sul disco in più. Per avviare a questo, nelle ultime versioni, è possibile abilitare un formato su disco compresso. Formato chiamato barracuda compressed. Per inserimenti di tipo bulk, InnoDB è meno performante di MyISAM. In questo grafico vediamo un confronto delle performance di MyISAM e InnoDB nel caso in cui abbiamo scritture e letture in contemporanea. È possibile vedere anche come l'aumentare dei core sulla macchina, quindi utilizzare più processori per parallelizzare, viene utilizzato da InnoDB mentre MyISAM non scala. Anche qui trovate il link per questo white paper nella slide. Quando si affronta una migrazione da MyISAM e InnoDB bisogna porre attenzione a una serie di punti. Prima di tutto bisogna considerare se rimanere su MyISAM. Se noi utilizziamo molti inserimenti bulk o facciamo molte query con full table scan, possiamo pensare di rimanere con MyISAM, perché i vantaggi a passare in UnIB non sarebbero troppo grandi. Bisogna anche fare attenzione a qual è la compatibilità delle feature utilizzate su MyISAM. Ad esempio, indici full test e indici di tipo spatial. Altra attenzione bisogna porre se le nostre applicazioni gestiscono correttamente la presenza di un motore transazionale, quindi gestiscono eventuali rollback o meno. Attenzione anche alle applicazioni che utilizzano una grossa quantità di lock espliciti. Tutti questi lock espliciti potrebbero annullare i benefici introdotti da InnoDB. Quindi non avremmo vantaggi a passare e a migrare da un nostro engine all'altro. Fate attenzione anche allo spazio sul disco, perché se non basta lo spazio sul disco, bisogna pianificare un'eventuale espansione dello storage. Principali punti da affrontare durante la migrazione. Dobbiamo verificare il formato dei dati delle primary key. Questo perché? Perché InnoDB accede a dati utilizzando le primary key. Se la colonna utilizza un tipo di dati grande, l'accesso a questa tabella potrebbero essere inefficienti su InnoDB. Altra cosa da fare è il tuning dei thread e dei buffer relativi a InnoDB. Altra cosa da fare è implementare nuove politiche di backup. Probabilmente dovremmo iniziare a usare tool differenti per fare il backup. Affrontiamo un altro problema. Tabelle o tablespace troppo grandi. Cioè, spesso arriviamo ad avere tabelle che nel tempo crescono di gigabyte in gigabyte. Queste tabelle sono difficili da mantenere e più lente per query molto complesse rispetto a tabelle più piccole. Inoltre, se utilizziamo InnoDB, esiste anche il caso in cui utilizziamo un unico tablespace. InnoDB, file per table uguale a zero. Che era il default per tutte le versioni in InnoSQL prima della 566. In quel caso si hanno tabelle, indici e tutti i db tutti all'interno dello stesso tablespace. Che in realtà è un file. Quali sono i principali problemi quando abbiamo tabelle molto grandi e tablespace unici? Innanzitutto la frammentazione. Se cancello dei dati, sposto dei dati e così via, possono crearsi dei buchi all'interno del file. E quindi l'accesso a disk diventa di tipo random. Se abbiamo degli hard disk tradizionali, l'accesso random è più lento. Tempi di manutenzione. La gestione degli indici, il rebuild degli indici, il recovery, il controllo di integrità della tabella, impiega molto più tempo se abbiamo un'unica tabella grande. Mentre se noi la spezzettiamo, possiamo per esempio fare il check sui dati modificati e non farlo su quelli che invece non sono stati toccati. Quindi risparmiare molto tempo in questo. Fate attenzione anche che i tablespace InnoDB, una volta che vengono allargati in automatico, comportamento di default per InnoDB, non vengono mai ridotti. Anche se noi rimuoviamo un grosso numero di righe all'interno del table. Le righe vengono marcate come libere e basta. Vediamo qualche soluzione per ovviare a questa situazione. La prima è il partitioning. Molti di voi già la utilizzeranno nelle vostre installazioni. Consente di separare i dati in maniera orizzontale, per gruppi di righe. Come si fa al partitioning? O con la create o con l'alther table? Aggiungendo la clausola partition by. È possibile partizionare la tabella per intervalli, per hash o mediante una funzione. Il supporto al partitioning è stato introdotto con la versione 5.1 di MySQL. È molto migliorato nella versione 5.5. MySQL utilizza un meccanismo chiamato partition pruning, che permette di evitare di utilizzare le partizioni non coinvolte nelle query che noi effettuiamo. Quindi le performance delle nostre query potrebbero essere migliori con l'utilizzo del partitioning. Vediamo pure come utilizzare i tablespace multipli su InnoDB. Per abilitarli basta inserire nel nostro file di configurazione my.in o my.cnf a seconda della piattaforma che utilizziamo InnoDB file per table uguale a 1. Fate attenzione che però questo parametro vale solo per le tabelle create dopo averlo impostato. Quindi per migrare i dati già esistenti l'unica soluzione è fare un dump logico, ad esempio con MySQL dump, e poi rimportarlo completamente, sovrascrivendo tutti i dati. Questo potrebbe richiedere molto tempo, se la quantità di dati è grande. Ricordatevi pure che il tablespace unico IB data 1, solitamente, non viene mai ridotto di dimensione. Qual è il nostro consiglio? Abilitare InnoDB file per table non appena si installa in istanza. È possibile, per esempio, utilizzare un secondo server MySQL per migrare i dati da un'istanza con InnoDB file per table unica, ad esempio una con InnoDB file per table uguale a 1. Quindi minimizziamo il tempo di down, passando da una macchina all'altra. Questo sta a voi, ovviamente, trovare la strategia ottimale per i vostri dati. Ovviamente le due soluzioni possono essere combinate insieme, tablespace multipli e partitioning. In questo caso, se noi abbiamo una tabella partizionata col partitioning, otteniamo un tablespace per ogni partizione. Andiamo a vedere, nel nostro ultimo caso, le cosiddette architetture ingestibili. Cioè, architetture che crescono nel tempo e poi diventano molto difficili da gestire. Ad esempio, le istanze monolitiche, un database per tante applicazioni. L'istanza MySQL, se ha problemi, impatta tutte le applicazioni che lo utilizzano. Abbiamo grossi problemi per schedulare manutenzione programmata, per fare il backup. Qualsiasi cosa che noi facciamo sul database impatta tante applicazioni. Questo è il classico caso di quando noi iniziamo ad utilizzare MySQL e poi prendiamo la mano e inseriamo sempre più applicazioni, più database all'interno dello stesso stanza. In questa maniera poi diventa ingestibile. Un altro caso è l'abuso della logica applicativa server-side. Cioè, faccio tutte le mie operazioni di business all'interno del mio server MySQL. Questo è un paradigma molto utilizzato con altri tipi di database relazionali, ma su MySQL non è il massimo dell'efficienza. Questo perché? Perché le procedure su MySQL sono in SQL, che bene o male è un linguaggio molto più limitato rispetto a un linguaggio general purpose. Le procedure e le funzioni sono più difficili da sviluppare rispetto ad utilizzare il linguaggio normale, fare testing, fare debugging e così via. Ed è anche difficile fare il versioning delle nostre funzioni. Questo perché? Perché il codice va a finire insieme ai nostri dati. Quindi non abbiamo più la separazione dati e codice. Quando è che è comodo utilizzare questo tipo di approccio? Quando noi riusciamo ad ottenere vantaggi prestazionali, ad esempio. Se noi dobbiamo lavorare su grosse moli di dati, è meglio utilizzare la logica server-side. Perché? Perché ci risparmiamo il trasferimento dei dati dal server al client. E quindi riusciamo ad avere performance maggiori. Un altro caso in cui è meglio utilizzare la logica server-side è per migliorare la sicurezza. Ad esempio, nascondere i dati effettivi a chi utilizza il nostro database, ma fornigliere solamente attraverso delle funzioni prestabilite. Quindi fare data hiding. Per concludere, vorrei presentarvi la campagna promozionale che Bubble e Oracle hanno lanciato per promuovere l'adozione di MySQL Enterprise sul mercato italiano. L'offerta si articola in tre pacchetti, che includono la licenza MySQL Enterprise e i nostri servizi professionali. Il primo pacchetto è l'Adoption Pack, per chi vuole iniziare ad utilizzare MySQL Enterprise o proviene da MySQL Community. Qui vi forniamo la licenza di MySQL Enterprise e un pacchetto di 5 giorni di servizi professionali. Il tutto a un prezzo vantaggioso. Il secondo pacchetto è il Migration Pack, per chi già utilizza database differenti rispetto a MySQL, vi assistiamo nella migrazione dei dati. Pure qui includiamo la licenza di MySQL Enterprise e una serie di servizi professionali, che poi andranno concordati di caso con caso. Il terzo pacchetto è il Support Pack, per chi già utilizza MySQL Enterprise e ha bisogno dei servizi professionali, per mantenere la propria installazione, oppure fare tuning o migliorarla e così via. È un pacchetto di 20 giorni di servizi professionali. Vi ringrazio per l'attenzione. In questa slide trovate tutti i nostri contatti, i miei contatti e quelli di Babbel. Grazie a tutti. Arrivederci.